Chiaravalle Centrale, la solidarietà è di casa, un successo, la marcia della pace. Sono trascorsi pochi giorni dalla manifestazione denominata la marcia della pace e non si placa l'eco dei complimenti agli organizzatori. Un evento che ha avuto tema come la pace, con diverse testimonianze lungo il tragitto percorso dalla chiesa matrice, guidati dal parroco Don Roberto Celia, in corteo sono arrivati presso la chiesa del convento dei frati Cappuccini. Ma sentiamo l'intervista a padre Giovanni Loria, ministro provinciale dei frati minori di Calabria e al sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato. Ieri sera, il 3 di ottobre, tradizionalmente per noi è un giorno molto importante perché celebriamo il transito di San Francesco con una liturgia molto suggestiva. In più qui c'è stata questa bella iniziativa di impegnarsi e di, come dire, anche chiedere la pace. Ma chiedere la pace significa cercare di lavorare ogni giorno noi nel nostro piccolo per costruire la pace nei cuori, nelle famiglie, perché sapete ci sono famiglie divise, famiglie con inimicizie varie e noi non possiamo chiedere la pace per il mondo se ci sono inimicizie, se il cuore dell'uomo è diviso nel piccolo. Allora, questa marcia vale, queste forme esterne per la pace servono nella misura in cui tutti noi ci impegniamo a costruire nel nostro piccolo la concordia, l'amore e la pace. Eh sì, con la nostra riflessione, quella di veramente in un momento di grandissima difficoltà che stiamo vivendo, è sotto gli occhi di tutti che stiamo vivendo una grande guerra. Siamo alle porte veramente della terza guerra mondiale. Non ci scordiamo che ogni giorno ci sono nuove nazioni che scendono in guerra. Noi abbiamo iniziato con delle guerre che sembravano e dovevano essere solo territoriali, solo per poter aumentare i propri confini delle proprie nazioni, ma così non è, perché ormai ci siamo, come Ucraina e Russia, ormai è diventata una guerra tra Occidente e Russia. La guerra che non è più quello che riguarda la striscia di Gaza, ma è qualcosa di molto molto più grande. Lo stiamo vedendo con l'Iraq, con il Libano, con tante nazioni che purtroppo ormai per poter portare la pace, loro la vogliono portare vincendo la guerra. Ma la pace non si vince con la guerra, la pace si vince con il confronto, con il dialogo, che purtroppo oggi possiamo dire che non c'è assolutamente. E questo ci sta facendo veramente preoccupare. Preoccupare perché queste guerre non sono lontane da noi, queste guerre sono vicino a noi, per quello che quotidianamente viviamo, per la libertà che ci sta venendo sempre di più o meno. E quindi è importante quello che a Chiaravalle ieri c'è stato, perché la parrocchia ha voluto fare questa giornata della pace e tutti insieme abbiamo veramente riflettuto su quello che stiamo vivendo. E io ritengo che ognuno di noi ieri sera è ritornato a casa pensando che nel suo piccolo può veramente contribuire a portare veramente la pace perché veramente ci serve e vivere serenamente.